Allora quest'oggi ho l'onore di avere come ospite Michele Contrini e ho intitolato la live soldi e aziende. Io come al solito sono un approfittatore fino all'ultimo quindi non presenterò l'ospite ma ringrazio l'ospite di essere qui con noi e lascia a te la parola chi sei e cosa fai? Grazie Riccardo prima di tutto per avermi invitato. Allora cosa faccio? Mi occupo di creare opportunità, mi piace definirmi così, mi piace creare situazioni, trovare idee interessanti, affiancare le persone che hanno queste idee nel percorso di costruzione di una realtà aziendale. Diciamo che nell'arco degli anni ho avuto modo di vedere diverse realtà, di poter toccare diversi ambiti nel mercato, diciamo spaziato dal mondo delle cartiere quindi aziende diciamo vecchie 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 tipologie, diciamo molto diciamo industriali e poi per passare poi dal 2010 quindi ormai tra più di dieci anni nel mondo digitale diciamo del mondo principalmente commerce comunque internet correlato al mondo internet vendita online opportunità online in generale. Dal 2010 appunto collaboro con un'azienda di Torino Brand Distribution che è una delle leader, un'azienda leader nella distribuzione B2B online di abbigliamento accessori e diciamo con un team ormai consolidato di persone vicine, di investitori, manager abbiamo lanciato diverse start up che alcune sono già diventate ormai piccole aziende, anche aziende interessanti, spaziano dalla digital brand della cosmetica a progetti innovativi nel mondo della distribuzione online quindi per esempio Vaskill Lab è stata una delle realtà che nel 2015 abbiamo lanciato che è stato oggi uno dei casi di maggior successo per noi con una crescita esponenziale ormai una presenza in tutta Europa e presto il lancio negli Stati Uniti a settembre di quest'anno dove ormai io per giusto per chiarezza sono solo un piccolo socio ormai perché dopo una prima fase nella quale partecipo all'organizzazione, alla strutturazione della società, dell'iniziativa, mi occupo della strutturazione proprio organizzativa societaria, finanziaria, reperisco i primi capitali, i primi capitali, dopodiché il team che segue l'iniziativa prende e sviluppa l'attività e io faccio un passaggio indietro e lascio poi il percorso che si sviluppi o meno un percorso. Ad oggi tra l'altro il contatto con te ne è arrivato tramite invece in realtà una delle nostre ultime iniziative che è l'Excel, quindi una nuova, sempre nell'ambito diciamo online e-commerce, si tratta di un nuovo modello di business nelle vendite online, cioè abbiamo cercato di portare le vendite dirette a uno step successivo. Quando dico vendite dirette si parla di, non so se conosci aziende tipo Avon, Herbalite, cioè quelle vendite door to door quasi, però sono un modello di business molto forte da più di 50 anni nel mercato che ad oggi fanno ancora numeri strepitosi, stiamo parlando di aziende che fanno un miliardo di fatturato e quindi c'è un'opportunità, però mancava perlomeno fino ad oggi, fino a un paio di anni fa quando aveva iniziata, un'azienda che portasse questa tipologia di vendite nel mondo online. E noi stiamo cercando di farlo con l'Excel e questa è l'azienda che oggi sulla quale sono più dedicato, sostanzialmente. Non so se ci sono riuscito a spiegarti un po'. Di argomenti da trattare ce ne sono veramente veramente tanti. La cosa come come i nostri ospiti sanno che a me piace di più vedere sono i fallimenti, gli errori per poi alla fine capire effettivamente da questi errori cosa si impara per poi lanciare continuamente nuovi progetti, nuove aziende che poi vanno a crescere e vanno a svilupparsi. Per questo io forse vorrei partire da questa domanda effettivamente. A parte i tuoi grandi successi, quali sono i tuoi grandi fallimenti? A oggi ho più grandi fallimenti che grandi successi, è uno del vero. Ma è sempre così se poi si va a scavare i grandi imprenditori? Sicuramente nel 2000, negli anni del 2008-2009 quando c'è stata una grossa crisi diciamo mondiale finanziaria, io ero in quel momento seguivo, mi occupavo di turnaround e con una società di investimento ci occupavamo di acquistare aziende in crisi e cercavamo di ristrutturarle e rimetterle in sesto. Lì è stato un percorso molto fondamentativo purtroppo che poi è sbocciato con un grosso fallimento proprio dove abbiamo perso soldi, abbiamo perso diciamo a parte i soldi abbiamo perso il sorriso, mi piace dirlo così perché per un periodo di tempo ho impiegato un annetto buono a trovare di nuovo la voglia di riapprocciarmi, di rinventarmi. Anzi è stato proprio uno dei motivi per cui ho approcciato un mondo considerato invece esplosivo che era quello dell'online. Sono stati proprio esattamente in quel momento in cui ho detto non voglio fare crisi, non voglio fare situazioni di licenziamento, di situazioni tagli, voglio affrontare situazioni che invece mi danno voglia di dire caspita facciamo questo qua, guarda che bello questo, guarda che innovazione qua. Mi piace molto fare quell'aspetto lì, mi piace, non sono in grado di farlo da solo, io ho delle competenze dove sono bravino, mi occupo di aspetti più che altro finanziari, amministrativi, organizzativi, a fianco sempre l'imprenditore o comunque il capo progetto, nel senso che comunque ogni progetto che noi lanciamo deve avere un riferimento, una persona che si occupa ogni giorno di sviluppare l'attività. Io diciamo metto al servizio di questa attività, di questa iniziativa, investo, porto investitori e le mie capacità di tipo finanziario, amministrativo, organizzativo, strategico. Questa è la mia competenza. Diciamo che la parte più bella della mia vita lavorativa è iniziata dopo un fallimento molto importante, quindi diciamo che mi ha dato la voglia di andare a vedere qualcosa di diverso, però mi ha permesso anche di fare delle grandissime esperienze, ma soprattutto personalmente questo per me mi ha tolto la paura di fare dei passi falsi in altri ambiti perché diciamo sapevo cosa poteva succedere, ho fatto un'esperienza che ho cercato di mettere a frutto il più possibile. Chiaro, se posso chiederti, non so se posso chiederti a prescindere, lo sto già chiedendo, tornando indietro qual è quel consiglio, quel qualcosa che avresti fatto diversamente di fronte a questo errore di fronte a questo fallimento. Sicuramente avevo fatto in quel momento una scelta che per me non ero pronto, quindi avrei dovuto affiancarmi con persone che avevano magari più esperienza per fare un certo tipo di percorso che stavo facendo. Mi sarebbe stato utile, magari mi avrebbero risparmiato un paio d'anni di sofferenza. Quindi il consiglio è cerca qualcuno che ha qualche cicatrice in più che magari ti può dare qualche input e ti può proteggere da qualche passo falso e può mettere in evidenza, scusami che ti interrompo, può mettere in evidenza cosa dove puoi prenderti un po' più di rischio e dove invece attento che quello poi sono cazzi amari, scusami il termine. Chiarissimo. Ora siamo andati subito sul fallimento, sull'insuccesso e di fatto poi è sempre il consiglio che tu dai è quello di affiancarsi sempre a persone che ne sanno più di te o che certe cose le hanno già viste. Come confronto, non per sostituirsi ma per confrontarti perché un buon confronto ti può dare degli input. Poi l'imprenditore deve essere l'imprenditore, deve prendersi i propri rischi, deve fare le proprie scelte, deve fare i propri errori perché fa parte del percorso, però se questo errore può essere più o meno grave, meglio. Cioè magari una persona può aiutarti in questo. E invece parlando di successi come le volte in cui è andata bene, quali sono stati diciamo i punti calienti dal punto di vista finanziario e gestionale che tu puoi riconoscere di un progetto che poi va a termine? E poi lato invece startup, sono due domande queste. Le startup che tu hai visto andare bene hanno avuto una rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione o magari del modello di business? Perché poi alla fine si parla sempre di da una parte tecnologia, da un'altra parte per le startup guardare qualcosa che già esiste, avere un approccio relativamente nuovo, diverso, quando magari c'è da vendere un qualcosa o tutti vendono quel qualcosa per quel determinato servizio, in realtà non si fanno soldi dalla vendita di quel qualcosa ma da tutti i servizi connessi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono due domande nel condensate in un'unica, in un'unica, in un'unica sola. Ma in realtà hai toccato, hai detto una prova che però la startup non avevamo ancora usato fino adesso, bene o male, forse sì l'ho usato io nella descrizione, però il mio modo startup è immenso, nel senso si usa, per me startup mi piace di più usarlo per una fase, per definire la fase in cui l'azienda si trova, mi piace più parlare di azienda che nella fase di startup. Chiaro. L'innovazione non la faccio io, nel mio percorso, nella mia esperienza, io non mi sono mai occupato di aziende che fanno effettivamente l'innovazione di prodotto, nel senso non sono nella ricerca, non sono nella, cioè per competenze non ho questa tipologia di esperienza, quindi il mio percorso si tratta sempre di innovazione di modello di business, di approccio al mercato, diciamo di, però non, non di innovazione del prodotto, certo puoi fare una piattaforma più o meno intuitiva, intuitiva, user friendly, puoi metterci, la piattaforma è più giga del mondo, ma non la considererei più un'innovazione, cioè non sto parlando di ricerca e sviluppo di un nuovo, dell'intelligente artificiale, cioè dopo per carità, magari nella piattaforma vai a prendere dei tool del machine learning, dell'intelligente artificiale, che possono essere utilizzate all'interno del tuo modello di business per aiutarti ad essere più efficace, più efficiente. Questo sì, però quello che ho visto è successo io è un modello di business che viene, quando vince la startup che riesce a, sì individuare il modello di business, ma a trovare la logica con cui approcciarsi al mercato in maniera rapida, cioè quello che ho notato, ma l'esempio più concreto sicuramente può essere Skilllabo, che è una delle quelle che ha scalato in maniera più ampia e poi ti racconto anche un'altra, Skilllabo ha trovato la formula, ha individuato la formula per approcciare un nuovo mercato, sviluppare una database clienti, è riuscito a mettere i numeri, quanto costa un cliente, quanto impiega va di ritornare, il modello è segnato, cioè a quel punto lì la variabile è la velocità di ingresso del mercato, perché appunto non avendo innovazione nel prodotto, perché alla fine, ripeto, non c'è un'innovazione, una ricerca di 10 anni all'interno dove dici un brevetto che puoi tutelarlo. Se puoi spiegare brevemente come funziona il modello di business per le persone che non sanno come funziona Skilllabo? Skilllabo, io ripeto, poi non sono neanche la persona più giusta per parlarne, ma ti parlo da piccolo socio, cioè loro si basano a che è stato lanciato un nuovo brand digitale online di cosmetica solo in ambito digitale, cioè ovvero solo tramite il canale digital. Lavora su acquisizione nuovi clienti, far conoscere il prodotto e dopodiché in realtà inizia bisogna guadagnare dal secondo o terzo acquisto di prodotto, quindi bisogna, la parte più complessa è creare un nuovo cliente. Dopodiché c'è la seconda fase, è il mantenimento. In realtà devi riuscire a trovare la formula per acquistare. Noi portiamo on board nuovi clienti anche facendo regalo, regalo sul primo ordine, pagando solo le serie di predizione, per esempio. Questo ci permette di creare una grossa database clienti sul quale poi le nostre, le ragazze dell'ufficio, del core center e tramite il tool online possono lavorare, sviluppare, creare un nuovo modello, un'innovazione. Però, ripeto, il lavoro non è più una cosa, un'azienda sul quale io ho sentore, quindi non ti voglio dare numeri diversi, cioè numeri o dettagli, cioè questo è per andarti in macro solo come funzionamento. È un modello che funziona, sta scalando, è presente ormai in tutta Europa, ti ripeto, quindi vuol dire che il modello una volta individuato in Italia può essere ripiegato in Spagna, poi in Francia, poi in Germania, poi in UK e via di seguito. Oggi penso sia in 12-13 paesi già, quindi inizia a essere molto importante. E poi il secondo esempio che menzionavi, che ti ho interrotto con un'altra domanda? Invece, per esempio, l'altro dettaglio importante invece è la velocità. Una volta individuato il modello e capito come puoi appresentare nel mercato e affermarti, è la velocità nel metterlo a terra, cioè perché un conto è di dimostrarlo, ok, l'ho fatto, ho aggiunto 100.000 clienti, dico dei numeri, ma in realtà a 100.000 sei ancora poco interessante. La velocità e la tua bravura sta nell'arrivare da 100 a un milione a quel punto lì, perché a quel punto diventi talmente interessante che diventi un boccone appetibile sostanzialmente. Quindi la velocità di messa a terra è fondamentale. Cioè, quindi, prenditi anche un po' di più di tempo per capire qual è il modello e come funziona. Ma quando viene individuato è lì la chiave di volta, perché è mai successo, e c'è successo in Romania, in un'azienda, dove noi tutto funzionava bene, abbiamo tardato, il modello era tarato, funzionava, cresceva. Dopo siamo arrivati a un punto, diciamo, super delicato, dove dovevamo fare un power raising di un certo livello per vari motivi, vari incroci di mercato, tutte le motivazioni del caso, non siamo riusciti a portarlo a termine nei tempi giusti e cosa è successo? È crollato. I volumi sono crollati, avendo dovuto completamente rivoluzionare il modello a distanza dopo di sei mesi. Cioè, ripartendo praticamente da zero, dopo aver già investito diversi soldi, perché abbiamo mancato una finestra. Una volta individuato il modello è fondamentale lo step-by successivo, cioè lo scale-up, arrivare a numeri che ti permettono una massa critica sufficiente per essere interessante. Chiarissimo. Ti faccio una domanda collegata, perché sempre di più si vedono start-up o aziende in base a, come una persona le vuole chiamare, che basano il tutto su una prospettiva di guadagno futura, piuttosto che, come una volta, al guadagno immediato, quindi aziende money first, cioè produco qualcosa avendo qualcosa guadagno. Dal tuo punto di vista, qual è il modello che hai visto di più funzionare e su quale modello ha investito di più? Perché è un qualcosa che continuo a chiedermi io quotidianamente quando faccio partire un progetto. Sono molto combattuto nel dati della risposta, perché per natura il mio approccio sarebbe guadagno, sviluppo, cresco e faccio e in realtà secondo me è il modello più sano e solido, però potrebbe avere dei limiti. Oggi diciamo che essendoci i capitali a disposizione e i modelli, come ripeto, il timing oggi è diverso, cioè ci vuole una rapidità di ingresso nel mercato che richiede magari dei investimenti molto grande e non ti dà il tempo di assorbire e di entrare a regime un passo alla volta, diciamo. Quindi un modello tipo l'Estel, tornando proprio parlando del concreto, l'Estel oggi è un'azienda che perde soldi perché la tipologia di modello, per come è strutturata, per come è stata concepita e sviluppata richiede molti investimenti esterni in equiti, quindi gli investitori, per raggiungere una massa critica, dopodiché poter fare uno switch e diventare profitable. Molto rischioso, cioè il vero problema è che l'Italia in particolare l'accesso ai capitali non è facile, cioè quindi il vero rischio, ed è quello che ci è successo precedentemente in un'altra iniziativa, è stato quello di non trovare poi i capitali per fare l'ulteriore step e praticamente c'è rimasto l'ucerino in mano. Se fosse stata un'azienda che girava, guadagnava e ogni giorno capisci che non avremmo avuto quel problema. Quindi diciamo che non ho la risposta esatta alla tua domanda, cioè onestamente, la risposta forse dipende dalla tipologia di azienda di cui stiamo trattando. Nell'ambito e-commerce, diciamo per definirlo e-commerce anche comunque online sicuramente è difficile fare un'azienda che guadagnava subito, oggi. Chiarissimo. Per carità, la domanda che mi viene spontanea è nel momento in cui vai a fare una raccolta di capitali, devi mettere d'accordo due parti, una è l'azienda che vuole cercare di raccogliere il maggior numero di soldi per riuscire a reinvestirli nel proprio business e continuare a creare più clienti e più profitto e dall'altra parte l'investitore che investe in quell'azienda perché si immagina una futura uscita in profitto. È il punto fondamentale che vedi, che fai vedere e diciamo gli attributi per riuscire a da una parte raccogliere il più possibile e b dall'altra parte investire in start up che effettivamente funzionano e possono darti una rendita. Quindi sia dal punto di vista di imprenditore, azienda, sia dal punto di vista di investitore e quindi diciamo persona con capitali. La persona con capitali è il target perché io personalmente come anche io ho fatto degli investimenti dove non sono coinvolto direttamente piccolini, stiamo parlando di piccoli investimenti, è cercare di essere nella fase più rischiosa, cioè nell'early stage perché comunque è lì dove puoi fare sicuramente un ritorno più interessante che le cose vanno bene. Per questo l'investimento deve essere limitato, devi valutare, devi valuti alla fine l'idea e il team che la propone e sicuramente come investitore privato quella secondo me è la fase più interessante. Come investitore di rischio chiaramente. Dal punto di vista dell'azienda io cerco di quello che facciamo normalmente è di fare soprattutto in una fase iniziale molte fasi di raccolta perché tanto abbiamo capito che grosse cifre raccogliere in Italia è veramente complesso. I investitori esteri venire in Italia fanno fatica, cioè non sto dicendo che non ci sono, sto dicendo che c'è un environment diciamo venture italiano molto molto poco sviluppato. Si fa sempre qualcosina in più, sta migliorando, però diciamo che non c'è sicuramente una grossa attività. Io su alcune iniziative, l'Excel per esempio, ho dei soci, ho un socio inglese, due soci svedesi, due soci spagnoli, tutti coinvolti nella fase di seed con tagli da 20-30 mila euro cada uno per darti un riferimento quando l'abbiamo lanciato. Comunque la prima parte di capitali l'avevamo coperta noi founder nel primo periodo e poi l'avevamo coinvolto perché dopo coinvolgere anche persone che ti possono dare input e aprire le nuove porte è molto importante. Alla fine ampliare un netto. Io utilizzo la fase seed per avere un buon network di investitori dentro che ti apre un'opportunità poi nei passaggi successivi. Quelli che chiamano smart money immagino. Sono smart money anche solo perché alla fine poter avere dentro qualcuno di famoso discorso di prima con pronto o di necessità quando vuoi aprire un nuovo mercato e io se devo andare in Spagna cosa che faremo? È ovvio che contatteremo la persona che è già dentro, che ci può dare qualche input, ci può dare apertura. Quindi avere delle persone giuste ti apre, ti dà opportunità. Non avere paura di lasciare, secondo me questa è una mia idea, però non diventare matti sull'1% in più, l'1% in meno. Perché alla fine se hai bisogno dei soldi devi essere pronto a discutere anche l'entrita centuale. Non sto dicendo di dare via la tua società, sto dicendo non diventare matto su 1.05 in più, 1.05 in meno. Mi è capitato di avere a che fare con ragazzi che magari no, non voglio, non è quello, perché se l'azienda va bene e l'obiettivo è quello, i moltiplicatori saranno talmente interessanti che non sarà più un problema se arrivi 1.05 in più. Non so come si riesce a passare il messaggio. Chiarissimo, chiarissimo. La prima cosa che guardi o su cui lavori per un'azienda, clienti, raccolta di denaro, profitto? Ovviamente la risposta è dipende, per tua esperienza partendo da zero con un progetto. Lo sviluppo da zero? Quindi siamo a zero? Siamo a zero. Facciamo un attimo di sviluppo, abbiamo un prodotto. Prima i clienti o prima il profitto? No, voglio vedere se il mercato è interessato. Chiaro. Primo step. Quando abbiamo lanciato l'estel, noi i primi sei mesi abbiamo solo capito se l'estel poteva interessare al mercato. Abbiamo fatto diversi test su pricing, diversi test su come approcciarlo, ma se il mercato non lo recepisce, cioè per la tipologia, ripeto, di iniziative che seguo io e dove ho esperienza, il mercato è il primo comando. Se non vedo quello non ha senso neanche andare avanti. Quindi sempre customer first, sempre di più? Dopo magari customer può essere B2C, può essere di dire magari ti sbagli, dici guarda che B2C non è adatto, devi andare verso B2B. Mi è successo in un'altra iniziativa molto interessante, legata al climate tech, quindi dove ho investito, si chiama Mugo, approfitto per dire anche quella, si occupa di fare il conteggio della proprio carbon footprint del consumatore, sostanzialmente di ogni persona. Noi è fatto un approccio B2C in una fase iniziale e invece dopo aver sviluppato le piattaforme, aver sviluppato la tecnologia, tutto quello che era necessario, dopo diversi chiacchierati, incontri, confronti, ho capito che era più interessante le aziende a inserirlo al proprio interno per i propri dipendenti, per poterlo rivendere come strumento di marketing, che stavano facendo qualcosa dal punto di vista di climatico, di impatto ambientale e quindi è stato switchato adesso praticamente un'azienda da B2B. Quindi a volte non necessariamente il mercato deve risponderti subito, bisogna capire che se il tour è giusto e capisci che quello c'è, magari devi soltanto capire dove targetizzarlo. Capito, chiarissimo. Dal pubblico ci chiedono se sei una start-up ad alto tasso innovativo, conviene cercare capitali direttamente all'estero e se sì dove? Io ho trovato un environment molto positivo in Svezia, a livello di investitori, hanno proprio un approccio mentale. Io ho tre investitori svedesi che ho conosciuto privati, non ho istituzionali, però sono molto molto attivi, hanno un approccio veramente interessante. Alto contenuto innovativo, quindi ricerca immagino, probabilmente bisogna andare in America, rispondendo in maniera banale nel senso, però se c'erano tanti soldi è l'unico posto al mondo dove davvero ce ne sono tanti, adesso è là, hanno un approccio completamente diverso all'investimento. Andare subito là è più facile dirlo che farlo nel senso, perché non è proprio scontato. Ci sono delle iniziative interessanti, non so, noi ha investito in Lezzela, ha investito Lyft, per esempio, che è una diciamo una società di investimento per Seed. Hanno un approccio bellissimo, secondo me è stato, dopo aver incontrato tanti fondi, tante strutture, Lyft mi ha dimostrato che c'è la possibilità anche in Italia di poter fare venture, questa è stata una mia percezione. Quindi fare un tentativo anche in Italia, prima lo farei, perché c'è voglia, Lyft ha una, per esempio, una socializzazione e proprio per tipologia di gestione manageriale ha investimenti ad alto contenuto di innovazione nel medicale, quindi cioè con revenue che arrivano molto dopo lo sviluppo, cioè quindi sono abituati ad avere un approccio. Esistono anche in Italia. Come lo vedi invece il mercato dei capitali qui in Italia? È molto, è piccolo, onestamente, molto piccolo, c'è, ci si può muovere nella prima prima fase, cioè nella fase family and friends, Seed, dove c'è, perché comunque diciamo che i soldi ci sono, nel senso bisogna bussare un po' di porte, i fondi non sono tantissimi, sono veramente pochi i fondi, diciamo, stiamo parlando forse di una decina di fondi di venture, diciamo, non di più, e diciamo con dotazioni, certo, importanti, ma comunque limitate rispetto a un mercato venture europeo, americano proprio non lo sto prendendo in considerazione, quindi diciamo che non è un, non abbiamo una situazione di venture secondo me super, sta migliorando tantissimo rispetto a quello che negli ultimi 5 anni c'è stato sicuramente un grosso percorso, c'è voglia anche, dal punto di vista governativo, di dare delle incentivazioni, delle recuperi fiscali, secondo me si può fare ancora molto di più, perché, specialmente sulla parte di investitori privati, c'è stato fatto qualcosa, ma, insomma, è ancora, secondo me è un lungo percorso, siamo ancora lontani da avere un venture molto attivo, perché è un peccato perché ci sono un sacco di bellissime realtà, di iniziative. C'è anche da dire che tanti vogliono fare la startup, ma è proprio il concetto che quando dicevo prima startup o azienda in fase startup, cioè, sono due cose diverse, nel senso, non è che uno dice, faccio la startup e è tutto bello, bisogna pensare, io voglio fare, cioè, anche se posso perdere, quindi per tornare a una domanda per tre anni o quattro anni, ma devo avere una visione che a un certo punto io divento sostenibile, che l'azienda guadagna, che l'azienda può pagare i stipendi dipendenti, cioè, a un certo punto deve poterlo fare, devo avere questa visione, cioè, non posso parlare startup pensando a tanto l'avendo tra due anni a Facebook e divento migliorario, no no, questo è sbagliato, e ce ne sono tanti che pensano così, questa è la percezione che ho avuto ogni tanto. Chiarissimo ti dico, la vedo, la vedo nella, la vedo nella quotidianità, nelle lamentele di anche negozianti o persone che hanno aperto attività che magari le hanno aperte più che altro per passione, non tanto con un'educazione imprenditoriale, o che hanno aperto progetti per aprire il progetto, non tanto per rendere quel qualcosa profittevole, e quindi c'è un errore di base, molte volte dove non si capisce che quello che si sta facendo è un percorso, comunque che deve essere sostenibile in un qualche modo? A un certo punto deve esserlo, cioè, e se non lo è fino a quel punto devi capire come andare a coprire quella necessità, cioè, queste domande devi partere, diciamo, quasi subito, dopo qualcosa non risponderai mai a tutto, altrimenti non parti mai, però diciamo che devi sapere dove può essere il tuo punto di caduta, o dove puoi andarti ad arenare, e noi ce lo facciamo tutti i giorni questa domanda, nel senso, poi magari si alza l'asticella, o si abbassa, nel senso che dici, ok, noi con l'Excel, giusto per essere trovato un esempio, l'anno scorso, per colpa della pandemia, abbiamo tardato di tre mesi il fundraising, e siamo andati un attimino in tensione, ma avendo capito che stavamo andare allentando, abbiamo tarato tutto in modo tale da poter mettere comunque in mantenimento l'azienda, e riuscire a sostenersi per un periodo molto più lungo rispetto al programmato, quindi ci eravamo tenuti già a un margine, e siamo riusciti a fare degli interventi, poteva essere una fase più avanzata, magari stiamo andati in difficoltà, però, diciamo, questa era anche una situazione straordinaria, sicuramente, diciamo che le domande bisogna farsene prima, ok, non guadagno niente per 5 anni, mi servono 10 milioni di euro, ok, nel senso, cerchiamo di capire dove andiamo, magari non tutti e 10, però almeno, diciamo, facciamo un programma, 18 mesi, 24 mesi, per dire, intanto... Sarebbe stata la mia domanda successiva, cioè, quanto fondo di cassa devi avere? Ovvio che idealmente tu più ne hai, meglio è, più riesci a pagare i fornitori, i dipendenti e quant'altro. Ma non è vero, perché in realtà puoi farlo anche step by step, cioè, in realtà io, quello che prevedo, almeno nel primo fundraising, voglio avere un'autonomia di almeno 18 mesi, questo il mio, quando io faccio dei ragionamenti, dopo da aggiustare in corsa, perché se gli Excel fossero tutti giusti, io oggi sarei billionaire, cioè, non miliardario, miliardario, minimo. Quindi tu programmi per 18 mesi, poi i soldi durano 6-12 mesi? Diciamo che se programmo per 18, almeno 12 deve coprirli, diciamo, sicuramente, però dopodiché, devi essere sempre, non pensare di fare la programmazione e poi dire, bene, ci vediamo tra un anno, no, soprattutto nella fase iniziale, fare un controllo costante della cash flow, perché le aziende muoiono di cash flow, non di conto economico, cioè muoiono prima di cash flow, quindi senza soldi si perdi, cioè puoi avere il modello più bello del mondo, ma se non puoi pagare a fine mese, a un certo punto la macchina si perde. Quindi quella è la cosa, il cash flow è la cosa più importante da monitorare. Poi, da un punto di vista economico, la differenza tra il punto di vista economico e, diciamo, il cash flow è fondamentale. Però la cassa è la cosa principale, soprattutto in una fase di start-up. Se hai cassa puoi sbagliare. Capito, è chiarissimo. Quindi, idealmente, quando vai a fare la prima raccolta, raccogli in prospettiva 18 mesi. Poi, la seconda raccolta, se non sei ancora profittevole o se non sei... La seconda raccolta dipende dalla tipologia d'azienda. Sì, ma le devi già iniziare al nono mese, ovviamente. Assolutamente, cioè tu già nell'arco del dopo, assolutamente, tu devi mettere in conto che minimo ci vogliono... Io ho chiuso l'ultimo round di Rezzella a ottobre e io, in realtà, da gennaio mi sono messo a smanettare per fare il round di giugno. Poi non vuol dire che devo fare del round, vuol dire preparo, aggiorno tutti la documentazione, preparo il business plan, rifaccio tutte le proiezioni perché... Ho più dati o consultivi, ogni mese escono nuove, ho nuove informazioni per fare proiezioni sempre più accurate, più precise e soprattutto ho le idee più curve sulla strategia futura. Capito, è chiarissimo. Quindi, idealmente, quali sono le figure di un team per una start-up che tu da amministratore delegato andresti ad assumere prima di tutto? Ovvio che la prima cosa a cui devi pensare, se tu non sei in grado di fare qualcosa, è una parte di sviluppo, perché comunque o il modello di business o comunque qualsiasi cosa sia, ci deve essere una figura relativa allo sviluppo. Poi, quali altre figure andresti a guardare? Ovviamente dipende dalla tipologia del progetto. Io come founder, tu dici, io come founder... Io come founder, esatto. Sì. Non siamo, diciamo, la persona, non il ragazzo, perché ormai a tutte le età succede, la persona che ha le idee e dice, basta, non voglio più fare il manager, non voglio più fare qualsiasi tipo di lavoro, voglio fare la mia azienda. Solitamente devi capire dove si approccia, però ad esempio in Lezzel la prima figura tolta responsabile che abbiamo assunto è stata la responsabile digital marketing, perché ci ha aiutato, è stata fondamentale, ci ha aiutato a fare casterizzazione di tutti i nostri target di mercato, abbiamo iniziato a fare i primi test e abbiamo, nel nostro caso, non la volevamo esterna, una società, un'agenzia, quindi l'abbiamo internalizzata. Idem, successivamente invece abbiamo esternalizzato lo sviluppo della piattaforma e dopo abbiamo inserito invece un CTO interno, però la piattaforma nel nostro caso l'abbiamo esternalizzata invece, lo sviluppo della prima beta version. Abbiamo fatto una scelta più sul sviluppo, essendo un nuovo modello di business e sapendo che la tecnologia, una volta che l'idea è chiare, è solo questione di risorse, di soldi e di tempo, invece capire se il mercato lo recepiva più o meno bene il servizio che noi andavamo a offrire, questo per noi era più importante, quindi abbiamo assunto il marketing. Invece le figure dal punto di vista di raccolte capitali e finanziarie, era la stessa figura? Avevate molteplici figure? Lato amministrativo? L'ho fatto tutto io, tutto io nel nostro caso, però questa è la mia competenza, quindi diciamo che in questo caso il mio team Letsell è molto, ma tutte le start-up, cioè io mi occupo di organizzare societariamente e raccogliere il business plan, raccogliere il capitale. Nel caso specifico di Letsell c'è Luca Ferrero, che tra l'altro è stato uno dei co-founder di saldi privati, quindi ha un'esperienza già storica, importante. si è occupato invece di organizzare proprio le operations, cioè ha fatto l'architettura, ha disegnato la piattaforma, l'ha commissionata al CTO e ha iniziato proprio a impostare le operazioni giornaliere. Quindi ci siamo divisi i compiti in maniera molto chiara e molto netta. Oggi Letsell ha 15 persone in ufficio lì a Torino, se è Torino giusto se non mi ricordo male. Io sono ad Albignaseco, sono a Padova, anche se in realtà di solito chiamo da Londra, quindi sono in trasferta in realtà oggi. Ok, no, quindi a Torino abbiamo un ufficio, ci sono 15 persone e chiaramente Luca è il general manager, diciamo, è il referente, quindi io domani sarò in ufficio a Torino, farò tutti i nostri incontri, faremo tutti i nostri check. Ma io per esempio non sono dedicato quotidianamente, cioè ogni giorno chiaramente controllo numeri, facciamo tutta la parte finanziaria e tutto, però le operations poi sono monitorate da Luca, quindi è molto importante, però dopo a pranzo sarò con lì, quindi io mi occupo della gestione dell'apporto con gli investitori, cioè proprio faccio questa parte qua. Se tu invece partissi da founder, quali sono le figure che vai a cercare per prima? Presupponendo una struttura simile a Letsell, progetti dove bene o male la parte di sviluppo tecnologico, la si può delegare con ovviamente a capo un CTO che si occupa di seguire il progetto, però oltre a questa figura che è importante per lo sviluppo, che figure andresti a trovare? Ovviamente tu non hai soltanto competenze di base e diciamo parallele in tutti gli ambiti, quindi conosci come funziona lo sviluppo, conosci finanziariamente, conosci le operations. Da solo non ce la hai, se tu sai che la tua azienda ha necessario di capitale importante, qualcuno che ti aiuti nello strutturarti finanziariamente, questo è fondamentale, quindi devi bussare, devi cercare qualcuno vicino a te o tramite amici di amici, qualcuno che poi devi convincere che la tua iniziativa è talmente interessante che può dedicarsi del tempo e delle risorse per poterle, ed essere parte del team originario. Poi nel caso di, se fossi il founder di Let's App, che sono stato tra l'altro, quindi lo sono stato, la progettata risposta, la figura nel digital marketing era fondamentale perché avevamo bisogno, avevamo bisogno di qualcuno che con pochi soldi, perché è una fase iniziale di scornare pochissimo, ci desse delle risposte immediate e che ogni giorno potesse fare test nuovi senza che ci costasse un occhio della testa con un'agenzia esterna e comunque avevamo già la voglia e la visibilità di poter sviluppare quindi la figura di marketing era chiave perché se non andavamo a costruirci un database non parlavamo del nulla, quindi questo è fondamentale. Poi a livello di CTO e tutto, in realtà a parte che oggi è difficilissimo perché sono veramente sovraccaricati di lavoro le società software, chiamiamole così, sono veramente difficili, anche gli sviluppatori sono molto ricercati oggi, nel senso difficilissimo trovare sviluppatori da internalizzare, ci si può affidare delle ottime software house diciamo, soprattutto perché tanto molto probabile è che la prima release di ogni cosa che potrebbe fare non andrà mai bene, cioè giusto per essere chiari. La beta fa sempre schifo. Non esiste il concetto, però ti deve essere utile per darti, perché se già con quella le cose girano vuol dire che a quel punto tutto ha senso, perché i soldi non è che devi andare a raccogliere domani, ma c'è il giorno prima, nel senso, devi avere la copertura per dimostrare che il tuo modello può stare in piedi, perché ci sono tanti strumenti per spendere il meno possibile, non ha senso buttare centinaia di migliaia di euro subito, ha senso arrivare a un punto dove dice, ok, gira, per farti capire, noi abbiamo raggiunto nell'arco di tre mesi 10.000 let's seller, abbiamo detto, caspita, 10.000 let's seller con una spesa di marketing ridicola, però vuol dire cosa è stato, vuol dire che il mercato ha risposto dicendo, non era neanche chiarissimo cosa fosse let's seller, anche a loro che si iscrivevano, ma abbiamo capito che c'era interesse, perché i costi di acquisizione non talmente bassi che vuol dire che la gente ci stava cercando, stava cercando un tool simile, dopo su quello vai a sviluppare lavori migliori e via. I primi mesi usi la piattaforma bruttina e dopo man mano fai il prossimo step. Quando fai il fundraising, chiaramente parte il fundraising ci sarà giustificato anche da uno sviluppo tecnologico più approfondito, più importante. Cioè devi ragionare per step, non puoi ragionare, non puoi aver tutto pianificato, è impossibile, cioè è veramente impossibile. Devi avere le idee chiare su dove vuoi arrivare, dove vuoi andare, questo sì. Poi essere pronto a cambiare direzione velocemente per arrivarci, però questo è quello che mi sento di dire. La prima figura comunque devi proprio convincere qualcuno ad affiancarti nel percorso, ma non dipendente. Stiamo volendo stare in un concetto di start up, poi ripeto Riccardo, stiamo facendo delle generalizzazioni adesso, ogni realtà dovrebbe essere analizzata e capita nel senso singolarmente. Mi è molto molto chiaro e dal tuo punto di vista, ora è una domanda un pelo più tecnica. Quali sono le cap table migliori? Quali sono la divisione dei compiti e quote migliori per a fare raccolta di capitali e b poi gestire l'azienda? Sono meglio aziende divise per tre persone? Sono meglio aziende divise per due persone equamente? È meglio avere una persona che è l'owner del progetto? Ti rispondo in modo diverso, due persone equamente non funziona. Quello è tra virgolette ovvio, se mi avessi risposto quello io ovviamente ti avrei detto ma come? Ho sempre sentito dire il contrario. Non funziona, l'unica cosa certa che posso dirti è quella. Il resto è la cap table, ma a me quelle che ho visto che secondo me sono solitamente ben bilanciate, diciamo due persone le ho viste ma non pari, nel senso ci deve essere uno che ha l'ultima parola, se no le ho viste però questa è veramente la sensazione, diciamo che solitamente tre figure, tre persone secondo me è un numero dove riescono solitamente a coprire bene i vari ambiti, questo è quello che ho notato. Solitamente le tre persone vanno a completarsi bene, quindi uno copre la parte più IT, uno copre la parte più marketing e solitamente ci deve essere, anche nelle tre però ci deve essere identificato un leader perché secondo me è data tranquillità agli investitori, non che gli altri non siano meno importanti ma ci deve essere comunque una persona, una faccia, che io definirei il mostro a livello di quando fai il fundraising, nel senso è la persona di riferimento, dopodiché fondamentale anche tutte e tre le figure, diciamo ipotizzando che sono tre, però secondo me è una leader ci deve essere. Chiarissimo, quando vai a parlare con il fondo, quali sono i punti che devi trattare principalmente? Cioè io, io dal punto di vista personale ovviamente e dalla mia, tra virgolette, giovane età, quello che cerco di fare quando tratto con un qualcuno è far vedere le mie debolezze e far vedere le mie potenzialità al massimo. Non uso mai strategie dove cerco di nascondere effettivamente quello che non ho, ma perché posso trattare alla luce del sole. Invece quali sono per tua esperienza il, diciamo, i punti per riuscire a trattare al meglio quello che hai e la prospettiva che vuoi, diciamo, prendere? Dipende molto dalla fase aziendale, cioè a che punto sei della vita della società. Nella fase originale, diciamo, nei primi, primi, primi step hai pochi numeri, nel senso che solitamente, quindi hai forza malapena dimostrato che il modello di business può avere senso. Lì magari te la giochi molto sul team e la fiducia che dai al team, mi immagino. Te la giochi molto sul fatto che ti sentono sul pezzo, che capiscono che sei dentro, vogliono, alla fine i fondi vogliono commitment, cioè loro stanno, soprattutto in quella fase, stanno investendo su di te, sulle due, le tre, l'una persona di chi sta presentando l'idea. Questo sicuramente. La prima fase quindi è molto legata a far capire che sei sul pezzo, che sei dedicato, che capisci cosa stai facendo e dimostrare che almeno sulla carta può avere un senso. Perché alla fine quello è. Poi più vai avanti nella fase, diciamo, dell'azienda, più diventa una parte numerica che prende sempre più importanza, nel senso. Non tanto l'ultima riga, che quella, diciamo, l'ultima riga per me è l'utile, che come dicevamo prima, perché non è primaria, nel senso che, diciamo, che se funziona sopra, dopodiché, l'utile è una conseguenza. Però magari ci vuole solo più tempo, o più o meno tempo per raggiungerlo. Vogliono capire che lo sviluppo può esserci, nel senso. Poi, alla fine, i venture vogliono scalabilità. La parola scalabile che usiamo spesso è giusta, perché loro ti investono ad alto rischio, perché vogliono che l'azienda possa esplodere. Cioè, venture fa questo, ed è giusto che sia così. Private equity fa un altro lavoro, fa un altro stadio della vita dell'azienda. Diciamo, quindi, il venture vuole vedere che da uno puoi passare a 100, che hai solo bisogno di soldi e, magari, di supporto nell'organizzazione e dell'esperienza. Però, su di veri, allora, alla fine, si trasmette molti nei numeri a un certo punto. Ti ho già levato una valanga di tempo. Volevo passare un attimo a domande un pelo più, diciamo, personali, dal punto di vista di come effettivamente Michele gestisce i suoi soldi. investi effettivamente la maggior parte dei soldi in start-up, in quello che fai, o hai anche piani di investimento? O, se tornassi indietro, rifacendo un calcolo di tutti i soldi che hai investito, sarebbero stati meglio investiti... Hai perso? Sarebbero stati meglio investiti in un indice? Allora, a me piace investire nel start-up, proprio perché io amo lo sviluppo e vedere un'azienda che cresce, che nasce, si sviluppa. Però questa è una mia deformazione, cioè, quindi... Io ho investito una decina di start-up, hai conto, negli ultimi dieci anni, più o meno. Sono sempre nella fase iniziale di investimento, quindi tagli da 30 al massimo. Ho messo in una start-up stati 50 mila euro per dar... Ti parlo di numeri. Chiaro. Ho fatto girare i soldi, quindi, cioè, magari ho venduto e ho rimesso subito in altre. Cioè, quindi, mi è successo. Ho cercato, magari, quando vedevo che la società si sviluppava, magari ho liquidato un po' di quote, ho ottenuto una parte, ma ne ho liquidato una parte. Però li ho rimessi subito magari in un'altra iniziativa. Però io, ti impeto, sono un po' deformato a livello personale, perché mi piace proprio vivere la fase iniziale, lo sviluppo. Proprio per passione. Poi dopo, personalmente, vabbè, ogni mese metto via dei soldi in un fondo pensione, cioè, molto tranquillo, ma più che altro, per dire almeno tra dieci anni, qualcosa l'ho messo da parte indipendentemente. Però quello non mi dà emozione, onestamente. Poi io, personalmente, faccio trading borsistico, quindi ho il mio portafoglio che seguo io personalmente. Però, diciamo, io sono molto attivo, nel senso, io sul conto corrente non tengo... cioè, i soldi non ce ne ho, nel senso, perché pochissima liquidità, perché subito, immediato, però, ho titoli, ho... Sì, hai comunque cose liquidabili. Sì, 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 le mie azioni... Le start-up, no, le start-up non sono tante liquidabili, nel senso. Quindi, attenzione, ogni soldo messo in una start-up, pensalo come... devi onestamente pensarlo come non lo vedrò più. Cioè, sennò, sbagliando, dal punto di vista... Cioè, a livello di investitori, dico no, lo voglio rivedere. Però, a livello di disponibilità, devi pensare che non ci sia, perché questa è la realtà oggi. Cioè, una volta che l'hai messo, poi magari va bene, magari no. Quanto tempo ti porta via la gestione dei tuoi asset e investiresti in altro o, tornando indietro, saresti stato più profittevole? C'è uno studio che dice le scimmie, mediamente, sono più brave a fare da stock picker che gli investitori di professione. Poi, magari... Se avessi messo 10.000 euro in Tesla nel 2012, magari sarebbe... Chiaro, chiaro. Se invece quei 10.000 euro... Senza far tanti sbattimenti, nel senso. Chiaro, vabbè. Se avessi messo 10.000 euro in Bitcoin nel 2010, in questo momento, probabilmente, non saremmo qui. Però, ovviamente, quello che poi alla fine ci porta avanti è la passione e quello che ci piace fare indipendentemente da tutto. Però la mia domanda era un più che altro. Tornando indietro, metteresti, faresti un piano d'accumulo su un indice o continueresti ad investire come trader? No, no, io farei quello che ho fatto. Lo dico molto onestamente. Ma per il motivo che ti ho detto, perché a me mi guida la parte startup è davvero una passione. E poi la parte di trading, di... È una cosa che mi piace, quindi lo faccio perché mi piace. Ogni giorno mi piace aprirmi il portafoglio, guardare e leggere le notizie e capire se è qualcosa di interessante o meno. È una cosa che mi piace fare, quindi... Chiaro. Se posso chiederti qual è il tuo approccio? Hai un approccio più tecnico o fondamentale? O mischi le due cose? Mischio. Mischio. Cerco di leggere... Cerco di leggere tanto. Cerco di capire un po' di più. In realtà dopo si capisce in realtà quello che poi il mercato... Loro vogliono far passare. Però sicuramente leggere è importante a livello di informazione. Di informazione per decidere o meno quale potrebbe essere il percorso. Poi onestamente, l'anno scorso parliamo di piccole cifre, ripeto perché non voglio passare per cose, però quando c'è stato il crollo della pandemia io ho comprato un po' di azioni, l'ho lasciata lì, ce l'avevo ancora lì. Non l'ho più toccata. Perché ho detto, non era un crollo... Era più che ragionevole pensare che ci sarebbe stato un percorso di ritorno. Salvo che non finisse il mondo, chiaramente, ma a quel punto non ci sarebbe interessato. Sarebbe stati altri problemi, chiaramente. La logica ho detto, ti stanno parlando di qualche migliaio di euro, l'ho messo, l'ho preso e sono ancora lì. Chiarissimo. Ora, come ultima domanda e poi ti lascio andare a cena giustamente, non ti rubo più del tempo. Qual è il tuo consiglio a un investitore che sta iniziando la propria attività, b un imprenditore o diciamo persone che vuole iniziare un progetto o persone che vuole mettere in piedi una startup. Quindi hai due persone a cui dare un consiglio. All'imprenditore di porsi la domanda, sto creando una startup o sto creando un'azienda che un giorno sarà in grado di creare valore. Creare valore vuol dire creare opportunità di lavoro, creare un prodotto, creare mercato, creare... Rispondere a quella domanda è molto importante. Quindi se risponde alla domanda, sì, sono in grado, sto creando valore, andrò a creare valore, allora procedi. Le soluzioni si trovano. Chiaro. E invece all'investitore? Investitore, attenzione, la domanda, il primo step è non spingersi mai oltre, nel senso capire da un investitore accurato, anche all'alto rischio, comunque deve fare un portafoglio bilanciato. Questa è l'unica cosa. Quindi qualcosa di super safe mischiato con qualcosa di alto rischio. Questo è il mio approccio. cercare di investire in qualcosa che se non lo capisci, anche qui, piuttosto che segui un indice, affidati a un professionista, dipende quanti soldi hai da investire. Sì, investi in quello che capisci. Bravo. Cioè, questo è, secondo me, sì, è importante come logica. Perché anche le start-up, innovazione, tutto. Però se vedi che dà una logicità, seguila, nel senso, segui quello. Non è che deve, non devi capire tutti i mercati, non devi capire tutte le iniziative. Però la logica esiste in ogni iniziativa. Dopo è ovvio che se uno arriva e ti propone, investi in questa situazione, stracendo la ricerca per la soluzione contro il cancro e sono i migliori del mondo, così fidati che per questo, questo, questo motivo, magari segui, nel senso, anche se non ci capisci mai niente, però... Sì, informati, leggi, approfondisci e dopo di che valuta. Però l'importante è, ovviamente, bilanciare bene il portafoglio. E quando, soprattutto nel mondo start-up, lo ripeto, pensare di metterli e dire non mi serve, soprattutto usare soldi che non ti servono per vivere. Chiarissimo. In realtà, in ogni ambito, perché quando ti serve, anche la borsa che è liquidabile, i soldi che decidi di mettere lì, ne hai bisogno, quando ne hai bisogno, nel momento in cui ne hai bisogno, dopo devi liquidare la posizione, quindi potresti dover perdere. Chiarissimo. E questo, cercare di investire sempre, ma non andando mai oltre quello che ti serve per la tua quotidianità, diciamo. Soprattutto poi dipende dall'età che hai, nel senso, perché questo è un altro fattore importante, perché le esigenze, chiaramente, e le potenzialità che puoi avere a 30 sono diverse, perché hai abitudini di vita e di spese e di obblighi e impegni diversi, quindi fai delle scelte di conseguenza. E guarda, grazie mille per la disponibilità, è stato un piacere parlare di aziende, start-up e investimenti. Ti auguro una buona cena e grazie ancora per essere stato nostro ospite. Grazie a te, sei stato super. Grazie mille.